Al Palozzi finisce a reti bianche il match tra Sulmona e Passo Cordone al termine di un confronto non certo spettacolare ma che qualche indicazione ai due tecnici l'ha comunque lasciata. Equilibrio in campo con una prolungata fase di studio che Antonini prova inutilmente a interrompere. Nessun problema per Dicenzo. A metà del primo tempo sono ancora gli ospiti a proporsi in avanti con la conclusione a lato di De Collibus. Subito dopo è il Sulmona ad affacciarsi in area loretese ma Quiglio manca la sfera sul cross di Safon. Al trentacinquesimo secondo cartellino giallo e conseguente espulsione per Lecini con il Passo Cordone che resta in dieci uomini. Ciononostante sono proprio i biancazzurri a sfiorare il vantaggio quando sul corner di Ortolano è Inic a svirgolare verso la propria porta con Dicenzo salvato dalla traversa. Mister Castellano corregge l'assetto dei suoi fuori cuozzo e dentro testi che va a posizionarsi sul lato sinistro della difesa ospite con Evangelista spostato a destra. Due minuti dopo Amedoro il migliore in campo impegna Dicenzo prima della segnalazione di offside da parte del primo assistente di linea. Tra il primo e il secondo tempo Mister Di Felice effettua il primo cambio nel Sulmona inserendo Valenza per Inic. In avvio di ripresa perfetto assist di Del Conte per Aquilio che non inquadra lo specchio e la porta di Cantagallo. Il Passo Cordone non rinunge a giocare sulla punizione di Amedoro è attento Dicenzo mentre il secondo cambio Ovidiano vede l'inserimento di Bianchi in luogo di Colella. Stesso ruolo ma interprete diverso anche nei loro tesi quando Leone va a rilevare l'attaccante Ortolano. Al 69esimo Aquilio va giù in area, lascia correre il signor Leone della sezione di Avezzano. Gara a scacchi tra i due tecnici con Castellano che richiama a sé Antonini surrogato da De Leonibus mentre Di Felice manda in campo Tirino al posto dell'applaudito Aquilio. Nella parte finale del match i loro tesi si spingono in avanti, De Collibus impegna Dicenzo prima che nel Sulmona Finocchi subentri a Coletti. Al 90esimo è ancora De Collibus a chiamare in causa Dicenzo che risponde presente anche in pieno recupero quando Leone si invola verso la porta sulmonese prima della segnalazione di fuorigioco. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio finale a sancire 1-0-0 che porta il primo punto in dote al Sulmona che la prossima settimana è atteso dalla trasferta sul campo dello Sportland Celano.